Grazie davvero, io saluto tutti, ringrazio in modo particolare il Professor Botto per avermi coinvolto in questa bellissima iniziativa, ma soprattutto perché mi ha permesso di ritornare e quindi di riscoprire il beato Paolo VI che ha accompagnato la mia adolescenza, per cui rileggendo alcune tematiche proprie di Paolo VI ho riletto anche in parte con l'età che ho oggi la mia preadolescenza e adolescenza. Direi che il motivo fondamentale che emerge, almeno così mi è parso di interpretare dagli interventi che mi hanno preceduto, è che se possiamo dare una definizione di nuovo umanesimo in Paolo VI e questa sua grande fiducia nell'uomo e questa esortazione nei confronti dell'uomo affinché riprenda la capacità di interpretare la vita, quindi la capacità di diventare protagonista e quindi la capacità anche di assumere la responsabilità, sottolineo questa espressione, la responsabilità nel campo delle proprie scelte. Il suo è stato definito anche un umanesimo trascendente proprio perché quando Montini soleva parlare di questi motivi, riferiva sempre l'essere dell'uomo nel mondo a una situazione che era illuminata dalla fede, proprio per questo motivo allora il suo è stato identificato e definito come umanesimo trascendente. Mi piace a questo riguardo riferire una affermazione di Paolo VI che fece in chiusura del concilio ecumenico Vaticano II il 7 dicembre 1965 quando affermò per conoscere l'uomo, l'uomo vero, l'uomo integrale, bisogna conoscere Dio. Il nostro umanesimo si fa cristianesimo e il nostro cristianesimo si fa teocentrico, tanto che possiamo altresì enunciare per conoscere Dio bisogna conoscere l'uomo. Allora questo concilio non sarebbe in definitiva un semplice, nuovo e solenne insegnamento ad amare l'uomo per amare il Dio? Amare l'uomo diciamo non come strumento ma come primo termine verso il supremo termine trascendente principio e ragione di ogni amore. Ho trovato particolarmente significativa questa affermazione per due riflessioni che ho intenzione di svolgere nel tempo che mi è concesso. Il far vedere da un lato come il nuovo umanesimo di Paolo VI abbia un elemento fondamentale per poter essere interpretato ed è il concetto di dialogo. E il secondo elemento sul quale richiamerò l'attenzione riguarda il tema del dialogo in riferimento a una, non delle, ma la istituzione che secondo me Paolo VI ha eletto come strumento per realizzare un nuovo umanesimo e quindi per cantare un vero inno all'uomo e quindi a Dio, cioè la famiglia. Cosa dire per quanto riguarda il dialogo? Direi che mi riferisco al dottor Tornielli che mi ha preceduto quando ha fatto quella affermazione che condivido in pieno e cioè che se noi vogliamo conoscere Paolo VI dobbiamo riandare ai suoi predecessori. E effettivamente se noi vogliamo capire Paolo VI ci dobbiamo rifare almeno a due grandi papi, Pio XII e Giovanni XXIII. Soprattutto, Pio XII non mi dilungo, è importantissimo secondo me per capire Paolo VI quantomeno perché fu definito il dottore della famiglia con tutto quello che poi ne derivò nel pensiero e nell'azione di Paolo VI. Per quanto riguarda invece Giovanni XXIII ecco diciamo che il Papa Buono fu colui che pose l'enfasi sul tema del dialogo, concetto di dialogo che poi fu ripreso da Paolo VI perché Giovanni XXIII prese il tema del dialogo come istanza attraverso il quale accostarsi al mondo socio-politico-economico-culturale. Sulla base dell'eredità ricevuta da Giovanni XXIII e sulla scorta poi anche degli approfondimenti che Paolo VI compì, noi possiamo dire che Montini possiamo condividere la posizione di coloro i quali hanno visto Montini come l'arcivescovo e il pontefice che avvia e sviluppa un rapporto di confronto e di dialogo con il mondo. Lui pone questa istanza soprattutto nella lettera enciclica Ecclesiam Suam che si rivela di grandissima attualità ancora oggi. Qualche settimana fa anche Sequeri ha richiamato all'attenzione questa lettera enciclica in cui si asserisce che il dialogo è lo strumento attraverso il quale realizzare la città dell'uomo. Dice Paolo VI il dialogo esclude la condanna prioristica, la polemica offensiva e abituale. Quando è ben condotto si realizza l'unione della verità e della carità, dell'intelligenza e dell'amore. È un documento di grandissimo interesse, di grandissimo significato anche perché attraverso il dialogo Paolo VI è messo nella condizione di poter tracciare i tre famosi raggi dialogici possiamo dire attraverso i quali realizza l'istanza della comunione o meglio prospetta la possibilità di realizzare l'istanza della comunione interpersonale. Anche qui mi richiamo fondamentalmente ad Ecclesiam Sua quando parla del dialogo con il mondo e quindi anche con la necessità di imparare a dialogare con i non credenti. Quando parla del secondo raggio cioè la necessità di imparare a dialogare all'interno delle chiese cioè di tutti coloro i quali si rivolgono a un Dio e infine la necessità di imparare a dialogare all'interno del mondo cristiano. La cosa però che vorrei sottolineare per quanto riguarda il dialogo e diciamo quella che io interpreto come una vera e propria torsione epistemologica del ragionare di Paolo VI sul mondo e quindi sul rapporto tra Chiesa e mondo. Attraverso l'istanza del dialogo noi abbiamo la possibilità di vedere, a suo tempo lo rilevò anche Bartolomeo Sorge, abbiamo la possibilità di vedere come il dialogo cambia la prospettiva di analisi con Paolo VI perché segna il passaggio dall'anteriore metodologia deduttiva alla metodologia induttiva cioè da una metodologia che partiva dalla Chiesa come città perfetta e guardava il mondo con Paolo VI invece abbiamo la modificazione cioè si guarda il mondo e si dialoga con il mondo. Ecco credo che questo possa rappresentare una come dire un contributo molto significativo per qualificare il nuovo umanesimo di Paolo VI. La questione che si pone dal punto di vista educativo a questo riguardo è una questione che viene poi sviluppata anche dalla gravissima omo educazionis la distinzione che Paolo VI fa tra educazione umana ed educazione cristiana. Una distinzione che non è separazione ma anzi in Paolo VI diventa l'educazione umana premessa indispensabile perché possa essere portata avanti l'educazione cristiana. Quindi tra le due non c'è frattura, non c'è distacco ma anzi l'educazione cristiana perché possa sortire buoni risultati deve valorizzare enormemente anche l'educazione umana. Quindi da questi aspetti ne derivano poi tutta una serie di conseguenze anche l'apertura mentale e direi anche la bella prospettiva di Paolo VI per quanto riguarda la problematica educativa. Pensiamo per esempio che in Paolo VI trova ragione d'essere, è uno dei primi pontifici a farlo, il tema dell'educazione sessuale abbinata alla istruzione sessuale. Indipendentemente da questo però e passo subito al secondo corno del problema sul quale voglio fermare l'attenzione, riguarda il rapporto tra istanza del dialogo e tematica familiare. Solitamente quando si parla della tematica familiare in Paolo VI il pensiero automaticamente corre all'umane vite. E parere concorde di molti osservatori, tra questi anche il cardinale Dionigi Tettamanzi, recentemente è uscito proprio un bel volume del cardinale, secondo il quale il documento più completo sulla famiglia di Paolo VI è quella bellissima lettera per la famiglia cristiana che Paolo VI inviò ai milanesi in occasione della quaresima del 1960. Mi riallaccio brevemente a quanto è stato affermato poc'anzi. Nella sua azione milanese Paolo VI ebbe modo di rilevare tutta una serie di questioni che lo portarono poi nella lettera per una famiglia cristiana a distinguere tra aspetti positivi del mondo e aspetti negativi del mondo. Tra gli aspetti positivi rilevò tutta una serie di questioni di carattere sociale, la pensione per i lavoratori, la politica per la casa e via di questo passo. Tra gli aspetti negativi non dobbiamo dimenticare, il professor Ornaghi lo ha richiamato poc'anzi, siamo sul finire degli anni 50, 1959 inizi anni 60, periodo storico estremamente problematico e in questo periodo una città come Milano che è più proiettata verso l'Europa e taccata rispetto al resto d'Italia risente però anche di quei gravi e grandi cambiamenti di carattere socio-culturale. Montini percepisce tutta una serie di modificazioni legate ai comportamenti delle persone, separazioni, divorzi, convivenze, nascite illegittime, ne parla lui direttamente nella lettera per la famiglia cristiana. E da questo punto di vista allora la sua attenzione nei confronti della famiglia si irrobustisce, la sua attenzione nei confronti della famiglie della famiglia cresce e sino al punto da considerare la famiglia come lo strumento attraverso il quale realizzare una nuova civiltà, una umanità nuova, dice. Ecco perché allora è importante secondo me recuperare questa dimensione della famiglia in riferimento proprio al nuovo umanesimo di Paolo VI. Paolo VI mi piace anche dirlo, mi avvio a conclusione, mi piace anche dirlo che è uno dei pochi pontifici direi per quello che ho potuto constatare che si rivolge direttamente alla disciplina pedagogica e in modo particolare cita anche proprio nei suoi scritti qualche pedagogista, per esempio, lui cita la Montessori. Per quanto riguarda che cosa? Perché dice, adesso sarebbe interessante rileggere il passo, dice che la ricerca pedagogica, la nuova ricerca pedagogica attraverso la riflessione che sta svolgendo sulla importanza dell'educazione delle nuove generazioni ci mette di fronte a questa esigenza fondamentale, capire che la nuova civiltà, la nuova città dell'uomo la possiamo costruire anche e soprattutto riscoprendo il senso dell'educare. Termino facendo notare che per quanto riguarda Paolo VI e la riflessione familiare, anche qui abbiamo a che fare con una intuizione di grande prospettiva. Per Paolo VI, cito testualmente nella lettera per la famiglia cristiana, la vita familiare non è perfezione raggiunta, ma è palestra di perfezione da raggiungere. Abbiamo qui una delle istanze fondamentali per quanto riguarda la riflessione pedagogica, cioè la necessità di intraprendere un cammino di perfezionamento che si protragga lungo tutto il corso della vita. Effettivamente nella lettera per una famiglia cristiana ci sono dei motivi che vale la pena ancora oggi richiamare, in modo particolare il tema della formazione dei genitori lungo tutto il corso della vita. Paolo VI è il Papa che ha offerto alla famiglia la possibilità di un continuo perfezionamento anche in periodi della vita che noi siamo portati molto spesso a considerare come conclusivi. Ecco, invece Paolo VI avvia questo nuovo discorso, è un discorso poi che ha preso piede negli ultimi decenni. Avvia questo nuovo discorso della formazione permanente dei genitori, una formazione permanente che è vista soprattutto nella nuova prospettiva della complementarità tra uomo e donna e soprattutto nella prospettiva di quel concetto fondamentale che è opportuno anche forse al giorno d'oggi riscoprire come non è stato fatto fino ad ora e cioè il tema della responsabilità dei singoli coniugi nella strutturazione e nella conduzione della propria vita familiare. Vi ringrazio.